Possiamo parlare con Vincenzo Manco, il presidente Luizio. Ma decisamente. Grazie. Ma di questa canzone vuoi parlare? Non lo so, non so neanche se la conosco. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie ancora per l'invito. Allora, insomma, è un momento in cui lo sport di base è particolarmente attivo, no? Ultimamente la preoccupazione è legata ovviamente a quello che potrebbe esserci nel prossimo decreto della presidenza del Consiglio, in cui si preannuncia poi vedremo come andrà a finire però una sorta di blocco di tutto quello sport amatoriale e in parte anche di base, sport di contatto, sport di squadra. Si dovranno trovare delle declinazioni alternative, mi riferisco soprattutto ai più giovani, ai bimbi e ai ragazzi che fanno sport. Ecco, come vedete tutto questo, insomma? Non si è ancora dato, ma insomma mi pare che arrivino, come dire, già una serie di notizie. Sì, dalla rassegna stampa che noi leggiamo in questi giorni, notizie appunto che arrivano, insomma ci hanno fatto mettere sulla condizione insomma di aprire un'allarme, un appello alle autorità competenti, tenendo in considerazione del fatto che lo sport di base ha assolutamente seguito, la UIS sicuramente insieme alle proprie SD, SSD, ai propri soci, seguito alla lettera il tema dei protocolli e l'investimento sui costi in termini di sanificazione e di garanzia della sicurezza e della salute dei soci e dei cittadini. Premesso questo noi siamo preoccupati perché appunto la stessa rassegna stampa parla di sport amatoriale. E allora a questo punto noi stiamo chiedendo chiarezza nell'eventuale DPCM, pronti ad assumerci anche noi la responsabilità di un'eventuale chiusura, speriamo di no, ma che non ci siano discriminazioni perché per amatoriale allora si scriva che si intenda per esempio la partitella tra amici e non le attività dilettantistiche che in questo caso sarebbero organizzate e riconosciute da alcuni per tutti gli organismi sportivi. Quindi federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva. Ma a me sembra che questo... No, a me sembra che però questo in qualche modo, no, soprattutto nella giornata di oggi stia venendo fuori che in qualche modo il distingo verrà fatto, no, quindi le attività dilettantistiche in realtà diventeranno attività amatoriali, no, e quindi la partita di calcetto fra amici, i playground sono stati citati, no, anche se in realtà non è che ce ne siano poi moltissimi in Italia, però insomma, e quindi tutte le attività legate a enti di promozione e federazioni invece potranno in qualche modo darsi, anche se credo che avviene già in maniera, come dire, spontanea, no, in alcuni luoghi si tende soprattutto con i ragazzi a privilegiare l'attività, no, di allenamento e di gesto tecnico piuttosto che la partitella. Sì, sul piano tra l'altro dell'attività motoria sportiva, di allenamento, sono eventi, diciamo, che adesso sono anche garantiti, quindi speriamo che questi si possano fare, ma soprattutto, Sandro, sul terreno, ecco, delle competizioni, delle competizioni, delle iniziative nazionali e importanza nazionale e regionale, ecco, speriamo che su questo venga garantita, diciamo, una parità di trattamento, ecco, tra gli organismi sportivi, perché su questo, nonostante interventi anche chiarificatori da parte del Dipartimento dello Sport, che abbiamo ricevuto qualche volta sui DPCM, voi lo sapete bene, come WISP, che abbiamo anche, come dire, messi sotto riflettore, ecco questo, quindi abbiamo voluto prevenire piuttosto che curare, diciamo, da quel punto di vista lì, perché è evidente che il diritto allo sport va declinato con il diritto alla salute, sicuramente un bene primario garantito dalla Costituzione, diritto alla salute, ma anche il diritto allo sport, ecco, per tutti, deve avere la pari dignità e il pari riconoscimento rispetto alle altre condizioni. Allora, c'è chi, faccio l'avvocato del diavolo, ovviamente, però insomma, c'è chi ha detto, vabbè, allora, la Serie A gioca perché hanno creato la bolla, perché fanno i tamponi ogni quattro giorni e nonostante questo i contagi arrivano gli ultimi due oggi dall'Under 21 e, dicendo, gli altri sport tutte queste attenzioni magari non ci sono, anche perché, insomma, hanno un costo piuttosto elevato, no? Soprattutto quello della bolla, insomma, ci vuole un luogo dove ritirarsi, dove isolarsi. Ecco, tutto questo declinato nelle serie inferiori, declinato nei campionati minori, non parlo di calcio, parlo in generale, può creare delle difficoltà. Allora, qualcuno dice, ma perché devono rischiare di contagiarsi e poi portare il contagio a casa perché non hanno la bolla, tornano a casa, insomma, no? Certo, a questo rispondiamo che noi invece abbiamo la UISP, come dicevo prima, rispetto al rapporto con le associazioni sportive, le società sportive dilettantistiche del territorio, con i nostri comitati territoriali e i nostri volontari, siamo invece intervenuti rispetto a tutti quelli che sono gli spazi, diciamo, tradizionali, addibiti allo svolgimento delle discipline e anche quelli non tradizionali, a garantire la sicurezza e la salute. Noi abbiamo, diciamo, interveniamo con l'obbligo di utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, rileviamo la febbre, certo. Va fatta anche qui una distinzione in maniera molto chiara. Noi non abbiamo, a differenza delle società sportive strutturate, ed è qui l'elemento discriminatorio, no? Quando ci si chiede il medico sportivo e quant'altro, ma rispetto a ciò che sono le indicazioni del DPCM, noi con i nostri volontari riusciamo invece a rilevare l'autocertificazione, a tenerle, diciamo, ben monitorate e a garantire quello che è il tema della sicurezza, perché abbiamo investito delle risorse. Anzi, spesso e volentieri, noi stiamo lavorando nel rapporto, permettendo l'attività sportiva assolutamente con, diciamo, costi non sostenibili, perché vogliamo, appunto, garantire a tutti, lo sport per tutti, nel rispetto, chiaramente, delle regole della sicurezza e della salute. Molte società sportive di base oggi non hanno le condizioni per riaprire. Molto probabilmente noi su questo apriremo anche una campagna di sensibilizzazione, perché questa cosa rispetta ad altri comparti del Paese, rispettando chiaramente tutti, e comunque, diciamo, ecco, nell'effetto, diciamo, nell'immaginario collettivo, sta diventando una cosa che rischia di passare sotto banco, di non essere, diciamo, considerata come si deve, perché appartengono al tessuto coesivo, non soltanto, diciamo, alla parte ricreativa, ma soprattutto al tessuto coesivo, educativo e di inclusione sociale del nostro Paese. È un pezzo dell'infrastrutturazione sociale del nostro Paese, lo sport di base, e a questo ci teniamo. Lì noi abbiamo messo delle risorse, non solo con il rete WISP, ma soprattutto le stesse nostre società sportive, le stesse nostre associazioni sportive del territorio. Quindi quella garanzia noi ci sentiamo di dire che c'è. ecco perché rivendichiamo una non discriminazione nel caso di, appunto, di un intervento sull'attività sportiva nel prossimo TPCN. No, no, diciamo che lo sport di base ha già molto patito le società di base, ricordiamo che il nostro è un Paese in cui, come dire, lo sport, soprattutto dei più giovani, è affidato alle società sportive più che ad altri, nella scuola ce n'è poco, insomma, assai meno di quanto dovrebbe, potrebbe, non mi azzardo a dirlo. Quindi voi vi aspettate che questo distinguo che è già stato in qualche modo accennato fra amatoriale e dilettantistico venga fatto in maniera molto, molto ferma perché stando ad oggi, da quello che era emerso ieri, potrebbero addirittura essere bloccate le attività di arti marziali, box, ballavolo, tutti gli sport di contatto e quindi di squadra e rimanero fuori praticamente il tennis e il padel o poco più. Calcio e derivati, ovviamente, con tutte le leghe minori. Sport di squadra, sì. Assolutamente questo. Noi, non a caso che nella nostra, diciamo, sollecitazione pubblica che abbiamo fatto, il nostro intervento, documento, riteniamo davvero che sarebbe non sopportabile un intervento discriminatorio. Assumiamoci tutti come cittadini e come organizzazioni sociali la responsabilità nei confronti della sicurezza e del punto diritto alla salute del nostro paese, ecco, perché ciò avvenga, purché ciò avvenga appunto nella, non dire, pari considerazione in questo caso degli organismi sportivi perché se si chiude, si chiude per tutti, se non si chiude e allora si lascia anche l'opportunità sempre, appunto garantendo la sicurezza delle persone la si lascia a tutti gli organismi sportivi che in quell'attività evidentemente riescono ad organizzarlo nel modo migliore possibile in piena sicurezza. Allora, Vincenzo Manco il presidente dell'Unione Italiana Sport per tutti ci risentiremo magari tra mercoledì e giovedì vedremo insomma perché quelle sono le date tra mercoledì dovrebbe in qualche modo essere chiuso tutto quello che stanno facendo adesso si stanno confrontando con i comuni con le regioni con gli enti locali mi auguro che ci sia un confronto anche con chi lo sport in qualche modo vive e staremo a vedere che cosa accadrà magari commenteremo le decisioni prese. Grazie per la vostra attenzione grazie mille davvero Grazie a Vincenzo Manco il presidente dell'UISP